Ignazio Messina, ieri la consegna della petizione con 2000 firme all'assessore Armao, oggi questa conferenza stampa, ma passa anche attraverso la mobilitazione popolare la soluzione del problema? Certamente sì, io ieri ho consegnato le 2000 firme all'assessore, è un fatto simbolico ma per dimostrare che c'è una città che vuole riapertere le sue terme. Io cito tre date di fondo, la prima 2007, la liquidazione delle terme di Sciacca, la seconda data 2015, chiudono i battenti, la terza data 2017, quando la regione siciliana concede al comune di Sciacca le terme. E allora ci sono tre problemi, il primo, dal 2017 il comune di Sciacca poteva fare il bando per dare in concessione e far gestire le terme, non lo ha fatto, è inadempiente l'amministrazione che è rimasta inerte. Secondo, c'è un impegno da parte della regione, dell'assessore Armao, era con lui anche l'onorevole Piscitello, per cui entro la prossima settimana faranno un gruppo di lavoro distretto per redigere il bando. Noi staremo lì a vigilare, ma tutti i cittadini devono vigilare. Terza cosa, non dormirei i sonni tranquilli al posto del liquidatore, c'è un degrado spaventoso, c'è un patrimonio che si sta perdendo, c'è il rischio anche perché so che per esempio le piscine dei Morinelli sono ancora piene, se entra qualcuno e succede qualcosa, alla fine credo che poi piangiamo tutti, non si può liquidare un bene abbandonandolo, si liquida manutenzionandolo prima di tutto e salvaguardando il patrimonio. Per questo ci sono i lavoratori che possono essere chiamati, per questo c'è una città che aspetta, perché aggiungo le terme, non sono dei lavoratori delle terme, ma sono della città, a partire dal centro storico, dai commercianti e artigiani, tutti quelli che lavorano in questa città ci credono, credono nel futuro, ma vogliono le terme aperte. La nostra battaglia è iniziata appena e si concluderà solo quando le terme riapriranno i battenti. A questo punto si attende la pubblicazione del bando, ma è questa la strada che si doveva seguire a suo parere? Certamente no, le terme secondo me andavano immediatamente date in gestione, ci sono grandi imprenditori del turismo che hanno investito già su Sciacca, non qualcuno che ci ha già creduto, ecco bastava mettere a disposizione questo straordinario patrimonio. Il famoso affitto del segmento del ramo di impresa di cui si parlava qualche anno fa? Certamente sì, ma andava fatto subito e il comune dal 2017 poteva fare tutto perché aveva dato in concessione al comune e alla regione, è inutile andare a piangere alla regione, se io comune posso fare tutto e non lo faccio e parliamo chiaramente, prima di tutto l'interesse a riaprire le terme dovrebbe averlo la città di Sciacca, poi probabilmente anche la regione. Quali saranno i prossimi passaggi? Staremo a vigilare ma mobiliteremo la gente e soprattutto faremo un'operazione verità, cioè i cittadini devono sapere quello che sta accadendo e non solo piangere o vedere altri che piangono.